ma guarda noi volevamo uscire insomma volevamo chiudere questa volta non c'è stato neanche bisogno questa volta non ci siamo accordati con l'attore noi pensavamo veramente che che la che la rai avesse fatto insomma avevamo fatto sei serie ma non avrei mai pensato che fossero andati avanti insomma non inoltre noi nel 92 che era l'anno della piazza e c'è stato in italia la morte di falcone borsellino cioè i due giudici antimafia più famosi del mondo io un pomeriggio era ero di sabato stavo lavorando mi ha chiamato un giornalista dell'ansia mi ha detto lei può fare un commento su sulla morte di falcone io pensavo di non aver capito detto scusi ma ma che mi sta dicendo eccetera lui mi ha detto guardi ma era successo dieci minuti prima quindi non sapevo niente quella cosa c'ha molto noi abbiamo pensato che non volevamo più scrivere di mafia tant'è vero che da allora non abbiamo mai più scritto insomma adesso ultimamente stiamo pensando chissà forse un film e tornare su questo argomento però insomma per quella cosa lì ci è sembrato che la realtà e superava completamente la fantasia cioè non si poteva pensare che due nel giro di 40 giorni due giudici che erano veramente e che poi vivevano sotto scorta che insomma che la mafia potesse arrivare a tanto di fatto noi nelle nostre storie una cosa così enorme due esplosioni nel centro di palermo due crateri cioè una nel centro l'altro insomma nella strada dell'aeroporto ma insomma con una complicità tra l'altro era chiaro che non era un lavoro soltanto di mafia quello che era un lavoro di insomma che c'entravano pezzi dello stato deviati che insomma era una cosa troppo complicata abbiamo pensato per cui noi volevamo con la piovra se chiudere definitivamente con la piovra non l'abbiamo mai odiata come dice qualcuno ne posso più no però insomma avevamo esaurito e volevamo chiudere con una cosa molto drammatica abbiamo scelto di far morire il protagonista grazie a tutti grazie a tutti